Ah, fanculo, il turno è finito. Di cosa stai parlando? Ehm, bello, sono le 6, sta merda è finita, non puoi toccarmi. Ma, ma, ma non ha senso, sono fottutamente spaventoso. Spaventoso? Vuoi sapere cos'è spaventoso? Minimo stipendio, idiota. Amico, questo è un paico istituto, a dire ci sono state persone che guadagnavano velo di te. Sì, amico, sono dispiaciuto per loro, ma, sai, lavoro in un'attrazione horror. Non mi aspettavo di prendere così poco. Questo è uno dei lavori che paga di meno in assoluto. Pensi che sia giusto solo per te? Per trenza ho fottuto gli anni, non sono mai stato pulito. Sembra un disastro ferroviario. Non mi hai compagato nemmeno un soldo che provate a ucciderti. Nessun rancore, sto cercando di fare esperienza sul capo, ma fidati, tu non mandi via da qui. Sono, non sono le 6. Venga a stapparti la traccia, te le infilo su per il culo e avrò un'espressione di merda guarda. Ah, un grave errore per i computer. Windows XP. Beh, è stato divertente ragazzi. A domani! Oh, che cazzo!